Grazie a tutti. E' sempre una legge simile a quella di Darcy oppure è una legge diversa? Beh, per fare questo la strada che io ho scelto è quella di mostrarvi quali sono le forze che agiscono nei versanti, nei suoli. E questi sono campi termodinamici in generale, cioè non sono, beh, c'è la forza, ci sono forze esterne come la gravità e questo non è un campo termodinamico ovviamente, ma poi ci sono gradienti di temperatura, di pressione e di potenziale chimico. E tra questi in particolare le forze osmotiche e le forze capillari. Tutte queste forze agiscono a livello dei pori e devono essere integrate poi sulla scala di Darcy per rendere, diciamo, il nostro mezzo un mezzo continuo equivalente. Un'immagine per esempio di un versante nel quale avvengono dei moti per infiltrazione è questa, in cui vedete la linea tratteggiata rappresenta la presenza di una falda e al di sopra della falda invece vedete disegnati degli altri elementi. In particolare questi altri elementi sono quelli che sono ritenuti essere i motori della... Sto cercando di sollevare un minimo qua il fara. Ok, così va meglio. Meglio ancora. Ok. Vedete ci sono varie forze che qui sono elencate, una è la gravità, la capillarità, l'altra è l'umidità e poi ancora la capillarità, poi è menzionato anche un gradiente di pressione positiva in questo caso, un carico positivo di pressione. Noi come possiamo capire che ci sono queste forze agenti? Beh, andando a investigare i fenomeni, andando a fare delle misure e così via, ma per quanto riguarda il nostro scopo, noi adesso andiamo a considerare, cercare di capire perché effettivamente e qual è la forma di questa legge del moto. Direi che l'elemento essenziale che entra in questo calcolo è l'energia. Noi sappiamo che sono gradienti di energia quelli che muovono le cose da una parte all'altra dello spazio e i gradienti di energia appunto sono forze. In particolare, qui l'energia è rappresentata da una cosa che si chiama potenziale chimico, che è la montagna di energia aggiunto al sistema da una mole della sostanza J. Come ogni altro potenziale, questo potenziale chimico è espresso rispetto a un livello di riferimento e questo livello di riferimento è chiamato mustar. Non è così rilevante dal punto di vista dei calcoli del moto che poi noi andremo a fare, perché quello a cui noi siamo interessati in realtà sono differenze di potenziale chimico e quindi nelle differenze questo elemento di riferimento scompare. Questo è forse il termine centrale nel calcolo del potenziale chimico. È una legge termodinamica che ha a che fare con volumi in cui siano presenti più sostanze e funziona l'ammontare della sostanza relativamente alle altre sostanze. Quali sono i termini che compaiono in questa espressione? Sono la costante dei gas che è 8.3 roti metri quadri, chilogrammi, secondo il quadrato per grado Kelvin per mol è la meno 1 e la temperatura in gradi Kelvin. È un termine che qui è chiamato attività della sostanza chimica. Che cos'è questa attività della sostanza chimica? Nella sostanza ha a che fare con la trazione relativa della sostanza J rispetto alle altre sostanze che compaiono nel nostro volume di controllo. E come vedete sotto, di fatti è definito come un coefficiente dell'attività gamma J per C J che è la concentrazione della sostanza chimica. Questa concentrazione che poi può essere calcolata in modi diversi, cioè volumi su volumi, chilogrammi su chilogrammi, massa su massa, oppure come frazioni molari, per esempio. Ma questo è un dettaglio sul quale noi non dobbiamo soffermarci in questo momento. Gli A J sono termini minori di 1 per il modo in cui sono definiti e costruiti. Questa si può pensare a una legge empirica in un certo senso. Non ne ho trovato una giustificazione teorica, ma può darsi anche che ci sia, ma io non la conosco. Siccome gli A J sono minori di 1, questo termine è negativo. Anche il gamma J è un coefficiente di attività. In questo gamma J sta a significare che, nonostante ci sia la presenza di una certa quantità della sostanza J nel nostro volume di controllo, non tutta è attiva nella formazione di questo potenziale chimico, per le ragioni delle interazioni che avvengono alla microscala, alla scala atomica, alla scala molecolare. In un soluto ideale, gamma J è uguale a 1, così pure in un solvente ideale il coefficiente gamma J è uguale a 1. Se, per esempio, abbiamo un liquido puro, la concentrazione, per esempio, la frazione molare, possiamo usare il numero di moli della sostanza J rispetto al numero di moli totali presenti nel volume, e se c'è un solo liquido, questa è 1, e quindi questo termine non compare, è 0. L'ogaritmo di AJ è 0. In generale è un soluto ideale, è un soluto comunque molto diluito, in cui nella sostanza il solvente ha attività 1 e il soluto ha un'attività piccola, ma non trascurabile. Nel potenziale chimico si aggiunge di solito anche il potenziale gravitazionale. Il potenziale gravitazionale, che è la massa in questo caso della sostanza J per la costante di gravità G e per H, che è H che poi ho chiamato Z in seguito per una ragione di cui vi renderete conto, dove Z è la quota rispetto al livello di riferimento. In questo potenziale chimico possono comparire altri termini, per esempio dovuti alla presenza di forze elettriche o elettrostatiche, o termini di pressione, che per il momento io qui ho trascurato. Se volete i dettagli di questa cosa, potete vedere un libro che si chiama Physico-Chemical and Environmental Plant Physiology, che la cosa sembra strana, perché è un libro di piante invece che è un libro di suoli. Tuttavia, nel capitolo secondo, c'è praticamente la derivazione che io vi sto mostrando. Le forze sono gradienti di questo potenziale chimico, gradienti quindi del potenziale gravitazionale, gradienti dovuti alle differenze di attività tra vari posti in cui il sistema si trova, e ovviamente anche gradienti dovuti alla differenza di temperatura. Di solito però, nella letteratura idrologica, ma in tutta la letteratura praticamente, questo termine RT logaritmo di gamma JCJ non è presente in questa forma. È presente in un'altra formulazione che tiene conto di pressioni. Vedete sotto un esperimento di capillarità. Ci sono diversi tubi capillari. Come vedete, nei diversi tubi l'acqua si dispone secondo diverse quote. e nei tubi più sottili l'acqua sale di più. La differenza di altezza tra la quota del liquido, ho supposto che fosse acqua colorata, ma non è detto che sia acqua colorata, non lo so, la quota del liquido meno la quota del liquido nei tubi a destra rispetto alla quota dei tubi a sinistra rappresenta un carico. Che quanto sarà questo carico? Beh, sarà ρV, la densità dell'acqua, G, la. G, la costante di gravità, e H, che è appunto la differenza di quota. Questa è la differenza, questa differenza di energia che è compensata appunto dall'innalzamento è dovuta all'azione delle forze capillari. Poiché la pressione nel tubo a sinistra alla superficie dell'acqua è zero relativamente all'atomosfera, si viene a dedurre che le pressioni all'interno dei tubi capillari sono inferiori a zero. Su questo punto poi ritorneremo anche con un disegno particolare in una delle prossime serie di slide. E quindi la sostanza è che per esempio la forza capillare che è una di queste forze che è contenuta in questo termine scritto così strano, è determinata in funzione di una pressione o di una differenza di pressione che è negativa. Questo perché noi le misuriamo attraverso la compensazione di... attraverso strumenti che usano la pressione come termine di compensazione. il modo per fare questo appunto è definire definire un volume per esempio il volume l'incremento di volume per mole W, W omega con la barra sopra e vedete che c'è un segno meno nella definizione questo perché come vi ho già anticipato questo termine porta a degli elementi a dei termini negativi e P P che potremmo chiamare pressione osmotica totale P è positiva perché A è negativo cioè A è minore di 1 e quindi il logaritmo di A è negativo. Come possiamo riscrivere la precedente equazione? Beh, la precedente equazione la possiamo riscrivere come meno RT diviso questo volume per il logaritmo di gamma W CW e questo applicando le regole dei logaritmi può essere scritto a sua volta come la somma dei due logaritmi in particolare il logaritmo del coefficiente delle attività gamma W meno il logaritmo la parte che contiene il logaritmo delle concentrazioni CW e a questo punto posso definire ciascuno dei due termini come in modo diverso in particolare definiscono come tau il primo termine e come P greco s il secondo termine la prima è la pressione viene chiamata matric pressure in inglese cioè pressione di matrice il secondo termine viene chiamata pressione osmotica e la pressione osmotica in realtà di tutti i soluti perché nel nostro di tutti i soluti che compaiono nel nostro volume di controllo se prendiamo l'espressione precedente e la sostituiamo nella formula iniziale del potenziale chimico possiamo andare otteniamo questa formula che ci dice che il nostro potenziale chimico è uguale al potenziale di riferimento di cui abbiamo parlato meno questo volume Vw per tau meno sempre Vw per P greco s la sostituzione di matrice e e poi anche l'energia e poi anche e poi anche la pressione osmotica e mi rimane il termine poi gravitazionale Mwgh nell'ultimo pezzo che questo H poi lo cambierò in Z come vedrete questa Mw avrebbe le dimensioni di un'energia per mole però nel passaggio che farò in seguito assumo che di moltiplicare tutto per il numero di moli e quindi il volume V barrato diventa il volume del il volume di controllo il volume del volume di controllo scusate il gioco di parole e i termini diventano e tutto viene espresso in termini di energia sarebbe l'energia libera di Gibbs e non l'ho fatto perché il libro da cui l'ho tratto ha un errore di cui mi sono accorto poi alla fine però poi questo lo correggeremo fate le operazioni di cui prima vi ho parlato possiamo prendere la differenza tra mu W e mu W star dividerla per il volume e posso definire il potenziale idrico psi maiuscolo come appunto questa quantità che diventa ad essere allora meno tau meno pi greco meno pi greco s e più rho g z e mi sono dimenticato di dividerla per il volume W il terzo termine qua non ha non è diviso per il volume questa è un'energia per il volume questo psi e questo potenziale idrico è dato in termini di energia per il volume il suo gradiente racconta dove in quale direzione agiscono le forze e in quale direzione si muovono i soluti posso ancora dividere il potenziale idrico per rho W G in questo caso ottengo una quantità che chiamo carico idraulico questo è uguale ad un termine che ho eguagliato in questa quantità che ho chiamato psi piccolo che chiamo suzione psi è positivo no psi è negativo scusate in questo modo e più il secondo termine invece l'ho l'ho chiamato H0 che è il carico osmotico cioè la quantità che è dovuta all'osmosi delle delle particelle dell'osmosi cioè la presenza di soluti all'interno del nostro del nostro liquido infine rimane il termine di gravità Z che è un termine che conosciamo in questo caso la nostra energia è un'energia diviso una forza ed è misurata in lunghezze quindi qui abbiamo tre modi diversi per valutare l'energia questo è il modo tradizionale di valutare l'energia è quella di misurarla in lunghezze che si usa in idraulica e questo in termini di psi e in termini di energia diviso volume una pressione se ci fate caso e questa invece è un'energia sarebbe un'energia per unità di volume lì qualche operazione si rende necessaria sul termine di gravità quindi la nostra la conclusione di questa di queste slide che è qual è è che io la mia energia all'interno di un qualsiasi volume la posso pensare come somma di tre componenti uno dovuto alla gravità uno dovuto alla presenza di forze capillari che è la psi che è la soluzione un'altra che è l'H0 che è dovuta alla presenza di forze osmotiche in particolare psi e H0 sono negative si mostrano come si mostrano come pressioni negative e il gradiente di queste quantità mi determina la direzione del moto dell'acqua se questo è vero allora la legge di flusso può essere espressa in una forma che voi avete già visto cioè esattamente come nella nella forma di Darcy in cui considero in questo caso il gradiente appunto del carico idraulico H dove però nel carico idraulico è incluso quei termini che dipendono dalla pressione osmotica e dipendono anche dalla capillarità che magari nella legge di Darcy non entravano inoltre in questa legge ho messo anche una conducibilità idraulica ho detto il flusso è proporzionale al gradiente la costante chiamiamola costante che costante non è come sappiamo la chiamiamo conducibilità idraulica per analogia con quanto è fatto nei mezzi continui quindi sia pure in modo euristico vi ho rappresentato che la legge che muove l'acqua in qualsiasi tipo di suolo è comunque una legge di tipo quella di Darcy in particolare il primo che ha formulato questa la legge in questo in questo modo peraltro in modo del tutto diverso da come l'ho fatto io è stato Buckingham nel 1907 e per questo la legge di trasporto nei suoli insatori io la chiamo legge di Darcy Buckingham ci sono delle domande di Darcy Buckingham di Darcy Buckingham